Ci sono quelle giornate dove uno si sveglia e capisce che ci sarà quel qualcosa di speciale Potete essere amatori, piloti, stradisti Ma a ognuno di questi, in base alla propria capacità È capitato di avere quel momento dove sentiva di poter fare quel qualcosa in più E quindi capire che era il momento giusto per provare a fare il best lap E in quel preciso momento dove hai la gomma nuova, le temperature sono perfette Non tira un filo di vento, ti si può mettere davanti tua madre, l'armata russa, Spongebob Ma la parola d'ordine è una sola Spostatevi 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 Grazie per la visione Grazie per la visione